Leonardo, due partite, due gol, meglio non si poteva cominciare questo campionato? No, sì, ci tenevo a iniziare bene, comunque per un attaccante è sempre bello, è la cosa più importante, fare gol. Poi diciamo che è iniziato non benissimo questa partita, non abbiamo avuto proprio l'approccio che dovevamo avere, un po' stanchi sulle seconde palle, poi dopo lo schiaffo che abbiamo preso abbiamo creato veramente tanto gioco e secondo me abbiamo meritato il vantaggio. Questo attacco si trova sempre meglio, belli scambi, ti trovi bene? Sì, sì, ci troviamo bene, siamo tutti disponibili, anche chi entra dalla panchina, tutti gli attaccanti giocano non per se stessi ma per la squadra per cercare di far gol e far far gol. Quindi penso che la cosa più importante sia mettere a disposizione della squadra ognuno le proprie qualità e diciamo che ognuno farà del meglio. Due vittorie su due, adesso all'orizzonte altre due partite, come la vedi? No, bene, sinceramente iniziò migliore, forse non poteva esserci. Ovvio che comunque gli errori si fanno anche in questa partita, a comune della scorsa, però siamo qui per migliorare e cercare di partita in partita migliorarci sempre nel miglior modo.